Allora, vediamo un pochino come facciamo l'analisi. La facciamo un po' per uno, va bene? Allora, Emma, visto che il microfono è acceso, inizia tu. Allora. Nome, aggettivo, articolo, verbo o preposizione? Reposizione. Ok, poi vediamo qua cosa ci dice. Semplice o articolata? Semplice. Benissimo, stop. No, dobbiamo promettere che sia maschile o femminile. Ah sì, sono maschile o femminile. No, 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 no. Ok, tant'è vero che se schiacciamo qua non ci dà più niente. Niente. Ok, benissimo. E qua cosa mi dice Emma? qui completato quindi sei a posto ok lori lorenzo un articolo indeterminativo bravissimo indeterminativo poi maschile singolare ok bravissimo cosa ci dice qua lori ci dice completato ok quindi siamo a posto giusto benissimo andiamo avanti martina momento nome si comune bravissima di cosa certamente primitivo si non ho capito maschile e singolare bravissima è completato quindi a posto benny poi mi fermo un attimo che vi do il tempo di copiare fai sarò benedetto maschile è un verbo verbo bravissima prima seconda terza coniugazione propria propria bravissima vabbè modo indicativo futuro futuro semplice si bravissima è la prima persona singolare benissimo voce del verbo essere grazie 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 grazie